Abbiamo fatto una buona partita contro una squadra forte e dobbiamo continuare a giocare così, c'era tanta intensità nella partita, alla fine abbiamo comunque un po' sofferto ancora ma abbiamo avuto tante occasioni e poteva essere più di 1-0. Abbiamo fiducia e credo che puoi vedere questo sul campo e adesso dobbiamo continuare così e ci siamo ancora nove partite e dobbiamo continuare. Sto bene per il momento ma non mi piace troppo parlare solo di me perché è la squadra che gioca molto bene a questo momento e questo è importante. È molto importante per il morale, abbiamo fiducia e puoi vedere questo sul campo e adesso abbiamo tre partite ancora molto difficile ma siamo in un buon momento e dobbiamo continuare in questo momento e possiamo prendere ancora punti. Grazie. 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 Grazie.